Buongiorno signor Donate. Ciao. Allora, lei è Chiara, l'amica quella che le diceva potrebbe sostituire a Marianne. Chiara può servire, pulire, quello che sta da farlo fa. Buongiorno. Buongiorno. Senti, hai avuto esperienza tu con i ristoranti? Beh, certo. Diciamo che a Milano quelli che val la pena li ho provati tutti. Cioè, nel senso, so come funziona. Si può fare. Beh. Ah, si può fare. Che poi mi pare che questa neanche la possiamo mettere in regola, no? No. Per il momento, meglio di no. Vabbè, tanto da queste parti mi pare non sia un problema, no? Ma ci è scema che è. Prego? Ma dove sei picchiata a questa? No, l'amica che... Scusate, con un po' di educazione possiamo tornare in Italia, così capisco anch'io? Ma per piacere se sparisce, per piacere. Chiara, aspettami fuori. Sì, sì, vado al volo.